eccolo ci siamo c'è sempre un secondo che va perso la registrazione l'unboxing della nuova powerball qua abbiamo la powerball la penultima quella con l'autostart facilitato che diventa rossa poi bianca violacea e poi blu verso gli 8000 non si sentirà nulla questa e questa è quella rossa classica distrutta perché è caduta si riesce ancora a abbigliare ma è molto difficile tenerla ok questa è diciamo che è andata fa un rumore veramente a croce e adesso unboxing questa è una nuova nuova edizione eccolo qua non riesce a farla partire esatto c'è il cordino ah non c'è più il cordino c'è il cordino per appenderla ecco c'è il cordinetto scatolina solo di carta ecologica però non c'è più il cordino e anche questa è l'autostart leggermente diversa anche da quella precedente esatto come prevedevo questo è il colore sempre uguale dei led e adesso io metterò nella sua scatolina quella che ha i led che cambiano i colori che probabilmente anche quella è l'ultima rimasta quasi new old stock al mondo mentre quell'altra è distrutta ecco sembra che abbia il rottore di metallo questo adesso questa bella la rimetto nella scatola che non è la sua però è l'unica perché mi sa che l'ultima era l'ultima disponibile della sua generazione ok e questa sempre col display anche questa è il display e anche con la nuova il display ma anche con i colori led quindi la mettiamo nella sua scatolina ritudiamo si è già aperta ok e rimangono le due power ball del momento si al rotore al rotore in metallo infatti è leggermente diversa da far partire cambiano colori led verde rosso diventa azzurro si cambiano colori ma non sembrerebbe così tanto comunque l'altro forse adesso sui 9000 tirerà sul verde vediamo quanto ho fatto 6500 6500 no? c'è qualcosa che non vale comunque qua c'è una fodera panda dance lì sotto ecco lui e invece l'altra è reggimental è una seduta reggimental molto messa male vediamo se riesce a segnarmi quanto sto facendo il colore è sempre stabile 12.106 12.000 incredibile ho fatto un tutorial l'ho fatto il record 12.106 sì ma il rotore di metallo questo è diverso comunque 12.106 non si vede non si vede in nessun caso 12.106 basta si è spenta buonanotte a tutti 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 buonanotte a tutti